Dal 1977 Argenti Moda veste famiglie, bambini e giovani. Ritorneremo ad accogliervi con il sorriso di sempre, offrendovi abbigliamento uomo e donna, sportivo casual e per momenti speciali. Le migliori marche, con una grande scelta all'interno di uno showroom spazioso ed elegante. Chi veste da noi indossa qualità, freschezza e stile. Argenti Moda a Castel Sant'Elia ti ricorda di rimanere a casa, perché andrà tutto bene.